Il figlio di Tom Hanks, Chet Hanks, è al centro delle polemiche per le dichiarazioni fatte sul vaccino per il Covid. Il paragone fatto dal giovane è tremendo. Sicuramente l'argomento di cui si parla di più da febbraio, marzo dell'anno scorso è il Covid. Virus arrivato da un animale? Il pipistrello che ha contagiato l'uomo? Oppure si tratta di un virus creato apposta dall'uomo in laboratorio per creare caos? Se ne sono sentite di tutti i colori in questi mesi e non è finita qui. La discussione sta continuando da quando è iniziata la vaccinazione di massa. C'è chi non vedeva l'ora e chi invece non si fida e non si farà mai vaccinare. A questi dibattiti prendono parte anche i personaggi noti. In queste ore una grande polemica è scoppiata per le dichiarazioni di Chet Hanks, il figlio di Tom Hanks. Lui è contro il vaccino per il Covid e lo ha fatto sapere in quelli che tanti hanno definito, un delirio, sui social. Ma ecco qui di seguito che cosa ha detto il giovane e quale paragone ha fatto. Chet Hanks, qualche ora fa, ha pubblicato una serie di video dal suo profilo ufficiale di Instagram per andare contro il vaccino per il Covid. Secondo lui non bisogna assolutamente vaccinarsi e lo ha detto a gran voce. Ma ecco alcune delle sue parole. Così come voi avete il diritto di essere arrabbiati con me perché non mi farò vaccinare, io ho il diritto di non farmi iniettare quella M*****. Il 99% di voi non userebbe nemmeno uno shampoo non approvato, ma accettate di sottoporvi ad un esperimento governativo di questo tipo. Non solo, ma poi ha fatto un paragone tremendo, aggiungendo questo a conclusione del video. Ci sono più evidenze che gli UFO esistano rispetto all'efficacia del vaccino.